ciao a tutti da iota e bentornati sul canale oggi proveremo per la prima volta proverò sul mio canale cook serve forever andiamo ok andiamo qua opzioni audio diminuiamo un po la notro così quattro vabbè ci sta mentre se fix save and go back credo che non ci siano keyboard e joypad va bene scusa cosa c'è se tasti ingredienti 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 spero che ci spiegano i tasti dove è il play play the game play the game ladies and gentlemen live from helianthus please put your hands together for your culinary queen hello helianthus what a delight for you to be here this evening tonight i will be making rovo alto tufo a delectable agio gravioli with buttercream and truffles whoa and as always in this recipe and in life be no less than the best so how's my birthday girl mom you're home i've got a surprise for you remember how i said we couldn't do normal presents this year yeah why i was thinking that instead we could have your favorite for dinner oh your ribollita yes except this time it's going to be your ribollita happy birthday what is it nothing yet but this will be your very own recipe book i'm going to teach you how to cook and we're going to start with your favorite come on yeah il libro vuoto ci ha regalato che facile fare sto regalo ok skillet peso questi tasti con non so cosa devo fare ribollita mamma recipe non mi dire che vuole il joypad aspettate un attimo forse vuole il joypad vediamo un attimo vuole giocare con mouse e tastiere si, no no, 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 no AB, CD, FG no, possiamo giocare con mouse e tastiere ritorniamo al mouse e la tastiera ah, ok basso, alto no basso no basso no basso tengo premuto si è acceso e poi sto cercando di capire perché ancora non l'ho capito la musica è alta ah, destra non l'ho capito però va bene premi il tasto mostrato una volta premi entrambi i tasti allo stesso momento ok basso questo 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 ok poi questo no questo e prevo cosa vuol dire press previous button one time e cos'è il previous cos'è il previous button? questo premi qualsi any ingredient button one time a caso e questo questo no previous uno due no questo questo non l'ho capito signori sto cercando di interpretare questo questo qualsiasi bottone di ingredienti che ne so vsd pgg spazio spazio sono tutti su e giù ah quattro volte va bene uno due tre e quattro e questo e mi dici sempre no non l'ho capito x vediamo andiamoci con e non funziona x previous previous no ah forse ho capito previous button è il bottone che ho usato precedentemente ok premi il bottone molte volte per ammontare il mostrato sopra sotto premi il bottone nascosto numero di volte prese l'ammostrato per cercare i fulli ok uno due qualsiasi tre volte due volte ok tengo premuto tengo premuto da tengo premuto tengo premuto tengo premuto tengo premuto ok poi tengo premuto due volte tre volte due volte e tre volte ok tengo premuto una volta lungo una volta due volte uno due e tre poi hot hot not ah non premere in basso non premere in alto questo e questo ah ho capito due uno tengo premuto poi uno due tre e qua ah non il precedente ok ok capito il gioco uno e due e uno uno due tre è questo ok adesso non premiamo su due comincia ad essere tricky la cosa uno poi dobbiamo tenere premuto ci sarà il tempo non vuole quello e non vuole il precedente quindi questo qualsiasi non il precedente il preced non il precedente il precedente ah qualsiasi non il precedente il precedente ok in basso qualsiasi il precedente ok in basso qualsiasi cioè se lo dobbiamo farlo a tempo va in cacciara qua ribollita limonata romanesco ma è finito no sarà solamente il mouse non serve mettiamolo qua posteggiato suona la sveglia dici anni dopo è volato il tempo ma ci suona la chitarra sembra un contrabbasso più che una chitarra ma che ora erano quando sei svegliata non l'ho vista ok benvenuto a morain o morain b ok continua livello 0 come scusa hot dog poke bowl ma c'è la poke burger putin egg benedict crispy taco jacob salad donut elephant here ah orecchie d'elefante ma perché c'è le fragole questa sarebbe la cotoletta corean core dog o portobello burger facciamo l'uovo alla benedict facciamo l'uovo alla benedict 5 continuo ah altri 5 questo poi facciamo questo qua non mi ispira tanto una pokeball va bene è come un burger facciamo ci vuole un hamburger un crispy taco no e facciamo i donuts che sono buoni ah un altro ancora quanti lo do tutti praticamente eh mmm hot dog non lo so vabbè facciamo questo no aspetta questo qua cos'è corean core dog continua no continua ah ma siamo street food invia quindi adesso arriveranno i clienti e noi dobbiamo fare tutte quelle robe in velocità ciao ciao ok va bene slow and steady baby step upgrade on random ingredient the terrible to upgrade to random ingredient al massimo ricevi solo due ordini per il prossimo shift si 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 questo ok ok iniziamo tengo premuto qualsiasi ok e questo l'abbiamo completato poi qualsiasi 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 inizia ad essere ok avevo fatto la combo perché ha fatto la faccia quello lì che sta aspettando eh ma non è facile eh per 5 ok feel like friday chill out and relax no change for this nessun cambiamento too hard testi testi avanti abbiamo fatto corean fusion 1 2 3 1 2 3 teniamolo 2 1 1 1 1 ogni tanto fa queste cose ok qualsiasi qualsiasi randomicamente questo 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 qualsiasi ok ok oh 21 combo signori ok ok una concentrazione totale c'è devi guardare quello che devi fare dopo però l'abbiamo fatto upgrade to random ingredient win 2 hard 2 hard e cosa devo fare questo qua di nuovo vai nooo ho sbagliato mi sono rovinato il coso Ok ci siamo Vai 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 Cacchio questo qua è randomico Ok ti frega quello lì Buon appetit Poi Questo è randomico E poi scassa su quello Proprio scassa proprio perché Tu fai randomico e poi di nuovo sbombo Eh questo l'ho lasciato prima Nice Ho completato il gioco livello 1 Oh ho preso Gli xp Ottimo This recipe is incredibly complex So naturally It's nothing I can't handle I wish there were more spots To cook in Moraine You could try Main Street next time Nobody works there anymore I think the last business Closed last month If you change your mind I'll join you with my guitar Maybe we can cook a few people out of hiding That would be wonderful Non lo so fino a che punto la chitarra possa aumentare Cosa vuol dire? Ah livello 1 Ho fatto livello 0.0 se non mi ricordo mai È su livello 1 Sì 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 Buonas di es Buonas di es Ah my air conditioner broke I had someone look at it yesterday But it's beyond repair Oh no Are you getting a new one? Eh we'll see Nobody in Moraine sells them anymore I call some places in Helianthus But they're so expensive there Eh ci vogliono i soldi per l'aria condizionata Allora abbiamo le stesse ricette di prima Si è aggiunto No no il Pixix E il Grille Cheese Facciamo il Grille Cheese Il Donuts Corre il Poppocorn Mac and Cheese Un Hamburger Poi Yoll of Rice Facciamo anche il Taco Ed Cobb Salad Che non lo possiamo prendere Che abbiamo preso Ok vai Adios Ok Allora Slow and Steady Feel like Friday Questo qua Uno Due Poi Ok Ok Una bestia Attenzione Bravo 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 Iota Bravo Ordine completato Anche questo Questo Poi Tre Questo No Lo devo tenere premuto Abbiamo fatto il coso Il Toast Il Grille Cheese Adesso facciamo questo Confused Instruction Precedente Questo 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 Questa era da tenere premuto Poi Any Ordine Questo è facilissimo Ma perché fa Quel rumore Poi Uno Quattro Uno Due Uno Due Tre Siamo a livello stella Cosa vuol dire livello stella Ce l'ho fatta Tu Is No Tenere premuto Due Tre Un po' scarsicelli Siamo qua Precedente Poi Accendiamo la piastra Uno Due Tre Uno Due Tre Tenere premuto Questo Qualsiasi questo Ah Il qualsiasi questo Mi ha distrutto Tre Questo 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 Oddio Sto impazzendo Signori Ve lo dico Tenere premuto Questo Ce li dite che ogni tanto Vanno Vanno Per i cavoli loro Ora abbiamo fatto anche questo Ottimo Cosa vuol dire Dor e doro Penso Coteaux 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 Non lo capite Coteaux Non mi ha scritto Che out Qualcosa Non lo so Se lo sapete Scrivetemi nei commenti Cosa vuol dire De Coteaux Dor De Coteaux Dor Cosa vuol dire Cosa vuol dire Nori Nori Oh What Is that Crack Getting bigger Huh The one On the ceiling That one No The one next to it The big one Does it look Bigger eh? bella questa scenetta, è piaciuta livello 3 è il 2 c'è Romero! Avete trovato il commerciale del Coutador la mattina? Eh, questo è in Gileanthus, certo? Scusatevi ad entrare? Mi piacerebbe! Ma... ho nessuna esperienza con le piacere che mi aspettavano. È difficile da trovare gli ingredienti come è. Oh, se solo tu avessi nato 20 anni prima. Moraine aveva tutto da allora. Ok, allora. Ehhh... Uovala Benet. Questo che ci è piaciuto. Questo... Questo cos'è? Shawarma. Poi c'abbiamo Mac and Cheese, non l'abbiamo mai fatto. Ban me. Vai. De nada, de nada! Penso che si dica così. Ok, pronto? Allora... Partiamo con... Tu, 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 tu... Nooo! Te l'hai premuto! I've got this! Nooo! Il trucco devo fare... Quello che fa Eni... Devo fare quello successivo. Questa è stata difficile. Ok. L'abbiamo fatto. Vi facciamo di nuovo questo. Vediamo. Cacchio! Leny! Aaaaah! Mi sono perso. Aaaaah! Aaaaah! Il precedente! Aaaaah! Aaaaah! Il precedente! Questo si è incavolato! E si è incavolato! C'ha ragione! Aspettando troppo! Ho fallito il giorno, signori! Non ho servito un ordine! Peccato! Bene, signori! Il tempo è... Scaduto! Non è vero! Se arrivate a 25 di gameplay, 26 minuti... 25 minuti di gameplay, direi di fermarlo qua. Avete capito bene o male com'è il gioco. Vi lascio il link in descrizione. Potete dargli un'occhiata e vedere se vi va. Naturalmente, come tutte le preview del mio canale, non lascio né un feedback, né un commento negativo o positivo, né... se questo gioco ne vale la pena acquistarlo oppure no, ma lascio decidere a voi, basandovi su questo gameplay. Iscrivetevi al canale, lasciate un commento e un bel pollicione in su per supportare il canale e, come sempre, siete mitici! Alla prossima! Bye bye! Ciao!